Ben ritornati a tutti, eccomi qua puntuale con la versione gennaio 2021 della nostra storia della musicoterapia. Se qualcuno di voi non avesse ricevuto la versione precedente, mi scriva su un indirizzo e-mail qui sotto, tutti gli altri riceveranno automaticamente questo file nelle prossime ore. La novità più grande è legata alla navigazione, nel senso che mentre il PowerPoint precedente si poteva navigare soltanto scendendo con la freccetta, con il mouse, in modo verticale, adesso se voi andate in questa primissima pagina, ci sto tornando, oltre alla leggenda cromatica che vi dice le sezioni in cui ho diviso PowerPoint, troverete anche una pagina legata alla navigazione. Con il mouse, se andate sopra alle varie sezioni, vedete che compare una manina e cliccando su quella manina, arriverete a una tabella riassuntiva di tutti gli eventi e ancora cliccando su ogni evento andrete poi all'evento specifico. Tornando in menu continuerete a muovervi, questo per quanto riguarda la World Federation Music Therapy, la stessa cosa per l'European Music Therapy Confederation, vedete andando avanti indietro, navigate e avete una visione riassuntiva del tutto, così anche per la confia, la formazione all'interno di conservatori e università, tutte le proposte di legge e gli atti, i decreti, gli emendamenti con le varie date, ovviamente poi dentro trovate anche il link, e infine le persone che non ci sono più, quindi una tabella riassuntiva di tutti quelli che ci hanno lasciato fino adesso. Quelli un po' più attenti di voi si saranno accorti che questo lavoro non è finito, manca di fatti questa cosa, questa tabella per le associazioni che hanno creato poi delle scuole e per le associazioni professionali e poi per tutto quello che non è dentro a questo. Quindi questa, questa e questa ancora devono essere fatte e probabilmente verranno, anzi quasi certamente verranno proposte nella versione che sarà gennaio 2022, quindi esattamente fra un anno. Con questo vi faccio un sacco di auguri, buon anno a tutti, che sia un buon 2021 per la musicoterapia, oltre che per noi, e buona navigazione a tutti. Ciao! 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 Ciao!